Dopo le tensioni e i malumori nei giorni scorsi, che hanno condotto anche alle dimissioni del consigliere comunale Marco Ricci, il sindaco Renato Gerevini e il neonato comitato locale hanno trovato un'intesa ieri sera in una dichiarazione congiunta dopo un incontro in comune. La questione centrale è la richiesta della società Suvea di costruire su Prato Verda un compostaggio di rifiuti verdi con produzione di cippato accanto ad una discarica di inerti nella prossimità della località Fornace, in un territorio già gravato da biogas e allevamenti sui nicoli. L'iter autorizzativo è stato avviato da più di un anno, ma i cittadini, compresi alcuni consiglieri comunali come Marco Ricci, nulla ne sapevano. Dopo la petizione e la raccolta di 473 firme, di cui un centinaio di acqua negra, ora il neonato comitato Tuteliamo il nostro ambiente e la nostra salute chiede insieme al sindaco una proroga di almeno un mese all'ente provincia rispetto alla scadenza del 9 novembre, per avere più tempo e per presentare le osservazioni, rimandando anche alla conferenza dei servizi. Interverrà la valutazione di tecnici indipendenti, uno dei quali scelto dal comitato La mobilitazione dei cittadini di Crotta spinge inoltre l'amministrazione a compiere una ricognizione degli impatti ambientali già attivi sul territorio come gli spandimenti di fanghi, oltre alla discarica di inerti e gli allevamenti al biogas Ci sarà filo diretto tra comitato e amministrazione all'arrivo di ogni nuovo documento che riguardi le iniziative imprenditoriali che interessino l'ambiente In programma anche il coinvolgimento dei comuni di Grumello e di Acqua Negra per chiedere loro una valutazione condivisa sul compostaggio La società Sovia non ha ancora presentato un progetto definitivo, ma la conferenza dei servizi, che avrà valore decisionale e autorizzativo senza passare per la valutazione di impatto ambientale, è ormai imminente Per questo si è affermata a Crotta Dada la volontà di esaminare i documenti e compiere monitoraggi Da parte propria Marco Ricci, con le sue dimissioni, fa notare il ruolo marginale in cui si può trovare un consigliere comunale A Crotta non esiste opposizione, il sindaco Renato Gerevini è sostenuto dall'unica lista presentatasi alle ultime elezioni Il comitato di cui fallo parte Cristina Cavalli, assieme ad altre nove persone, ha chiesto un incontro anche con il presidente della provincia, Davide Viola